Buongiorno, benvenuta. In che cosa posso esserti utile? Ok, stavi cercando un regalo, quindi. Perfetto. Sai più o meno i gusti della persona per quanto riguarda i profumi? Sì? Ok, perfetto. Allora, io solitamente il consiglio che do è questo, se è una persona a cui piacciono i profumi o le fragranze comunque abbastanza dolci, come per esempio la vaniglia, il miele, oppure se predilige, diciamo, i profumi e le fragranze più agrumati, come per esempio il limone, le arance, gli agrumi, ok? Oppure se possono piaccere anche i profumi più speziati. Ok, quindi prevalentemente dolci e floreali. Perfetto. Allora, se sei d'accordo, ti porto un po' di fragranze che abbiamo di vari marchi e ti faccio sentire con i nostri tester anche appunto i profumi, così decidi bene. E volevo informarti che abbiamo anche una promozione. Allora, questa promozione prevede nel... se acquisti due profumi, il secondo, quello che viene di meno, lo paghi al 30% di sconto. Sì. Ok. Allora, ti faccio vedere il primissimo profumo, che è così. È con questa confezione particolare, come vedi. Sì, te lo faccio vedere bene anche. Ok, si riesce a vederlo. Ok, perfetto. Questa è una confezione particolare. Ci sono anche quelle persone che adorano collezionare le confezioni di profumi, sia... Cioè, che le conservano anche quando li finiscono. Non so se magari la tua amica è così. Ok, le possono piacere comunque. Perchè questo è particolare, proprio come confezione. Allora, sì. Questo è il profumo di Shakira. E si chiama Rock. Rock by Shakira. Allora, la profumazione io la definirei proprio estiva. Quindi, in previsione dell'estate, se vuoi fare un regalo proprio super, super... E' un mix tra il floreale e il dolce, come parlavamo prima. E poi... Sì, per me è buonissimo, proprio come profumo. Adesso te lo faccio sentire nel nostro tester. E' veramente buono. Mi ricorda l'estate, primavera estate. Senti un po'. Sì. E' veramente buono. Poi, comunque, ce l'ho anch'io, l'ho anche comprato, l'ho acquistato io. E rimane tutto il giorno. Quindi, come profumo, comunque, è molto buono. Allora, ti dico subito, certo. Allora, il prezzo di questo è sui 30 euro. Sì. Allora, il nostro campioncino è da 75 ml. E invece è quello che diamo, solitamente, da 100. Quindi, 30 euro quello da 100, eh? Sì. Allora, l'ho appoggio da questa parte. E passiamo al prossimo. Allora, il prossimo che ti faccio sentire è questo qua. Che come confezione, questo invece è più semplice. C'è proprio i classici profumi, diciamo. Questa è la fragranza. Si chiama Chic. E la marca è Chaka. Chaka. Allora, questo invece è una profumazione completamente floreale. Quindi, se possono piacere comunque i profumi floreali, questi comunque, secondo me, sono tutti profumi che andrebbero, questi due che ti sta facendo vedere, di mattino. Ovvero, giornalieri. Sì, questo è proprio un mix. È un pochettino più dolce, senti. Sì. È un pochettino più dolce rispetto all'altro. Comunque, anche questo, come è durata, rimane comunque tutto il giorno. Sì. Allora, questo è il nostro campioncino. È da 100 ml. È già praticamente la confezione potta, diciamo. E viene 20. Questo viene 20 euro di mano dall'altra, sì. Ok. Ok. Perfetto. Questa ti piace molto. Beh, potresti tranquillamente fare anche la promozione, prendendoti anche un profumo tu. Certo. Questo comunque è molto buono. Questo soprattutto, cioè, io lo useri proprio la mattina, proprio nel giornaliero, secondo me. Ok. Allora, lo faccio anche questo da questa parte. Allora, adesso ti faccio sentire un profumo che sta andando tantissimo questo periodo. Ed è questo qui. Non so se alla tua amica possono piacere i profumi così, se è di quelle comunque un po' magari il retro che possono piacergli queste confezioni così, perché la confezione è molto, molto bella. Allora, questo è il profumo di Vittoria's Secret. Infatti, se non ti bene, c'è proprio scritto Vittoria's Secret. Qua. Allora, questo è sempre da 100 ml. Si chiama Love Me. E questo viene di meno. Viene 19 euro. È in promozione. Ce l'abbiamo già in promozione, ma puoi fare tranquillamente la promozione che stiamo dicendo prima. Allora, la modalità comunque di apertura, se bisogna solamente girare questo e si chiude, è bello anche per il trasporto questo. Certo. Allora, te lo faccio sentire, perché si spruzza direttamente così. Anche lo spruzzo lo senti diverso. Allora, questo è un profumo che secondo me, cioè io metterei proprio per le serate eleganti, magari quando si esce con il proprio ragazzo, o con le amiche. Senti, è dolcissimo questo. È buono, 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 buono. A me piace moltissimo. E poi, comunque, per il prezzo che costa, sì, ce l'abbiamo proprio in promozione. Prima veniva sui 30. Adesso praticamente 10 euro e mele. Sì. Perfetto. Dice che questo potrebbe piacere comunque. Perfetto. Ok, va bene. Allora, lo lascio qui da una parte. Allora, adesso ti farei provare altri profumi, se sei d'accordo, che sono un po' più costosi. Mi hai detto che inizialmente volevi non spendere, non tantissimo, però ti faccio vedere anche gli altri, perché sono comunque inerenti alle tue esigenze per quello che mi hai chiesto. Allora, il primo che ti faccio vedere è questo qui. Allora, questo qui ce l'abbiamo in promozione. È Armani, ma ce l'abbiamo in promozione. Perché, allora, ti spiego. È un prodotto, praticamente, che adesso non è più reperibile nelle profumerie normali. Cioè, nelle profumerie e nelle altre profumerie, perché è un prodotto che puoi acquistare solamente su internet. Sì, sì, sì. Questo è, per me, è stato, diciamo, uno dei prodotti migliori, diciamo, di un bel po' di anni fa. Solo che adesso nelle profumerie l'hanno proprio ritirato. Sì, perché ce ne sono veramente pochi in giro. Quindi, se le può piacere anche qualcosa di abbastanza... Cioè, nel senso che per il momento solo lei, capito? È una sorta di esclusiva. Sì, perché questo sia un profumo che andava moltissimi anni fa e che, appunto, purtroppo non hanno fatto più tantissimi. Però è buono, buono, buono. Io te lo faccio sentire perché, veramente, secondo me, merita. Questo ne è posto veramente poco. Senti. Lo conoscevi anche tu? Sì. No, questo è veramente buono. Io questo lo userei proprio per le feste. E quella... Quella nota, diciamo, tra il dolce è un po' agrumato. Sì, sì, sì. Quindi questa è la confezione. È molto carina, secondo me, è molto elegante. La confezione è comunque sul rosa. Ok, va bene, va bene. Tranquilla. Poi, se vuoi, ti faccio risentire i tester. Così mi dici tu, se magari sei indeciso su qualche profumo. Allora, invece, volevo farti sentire un altro profumo. Questo qui, che è il Black Optimum. E questo qui sta andando tantissimo, lo stesso. Io questo lo userei più d'inverno. Io lo trovo un profumo proprio invernale, delle serate invernali, delle feste. Sì, però comunque, cioè, può usarlo sempre e anche tutto l'anno. O anche tu, se magari sei interessato a questo. Sì. Questo è veramente particolare come profumo. Ed è molto dolce. Secondo me è abbastanza dolce e penetrante come profumazione. Sì. Senti. Ma è buono. Certo, ti lascio i tester qua. Figurati, certo. Così almeno riesci a decidere bene, diciamo, quale prendere. Sì. Allora, la confezione è fatta così. Quindi anche questa è molto carina. È proprio con i glitter, quindi non so se è un amante dei glitter, la tua amica. Sì. Ok, perfetto. Allora, adesso ti faccio sentire un'altra fragranza. Che è questa, è l'intramontabile mistior. Allora, eccolo qui. Ah, sì, scusami. Dell'altro non ti ho detto il prezzo. Allora, il prezzo di questo qui, te lo dico subito. Questo è da 50 ml. E viene 50. Quello da 100 viene sui 98, quindi più o meno. Sì. Certo. Ed è insalurà. 50, ovviamente, se poi prendi anche un altro prodotto. Per esempio, se prendessi anche quello di Pittoria Secrets, che viene sui 19, comunque ti farei il 30% sui 19. Sì. Allora, questo invece, lo stesso, è bellissimo come fragranza. E questo, secondo me, è più, già più primaverile, estivo, come profumazione. È molto buono questo. E hanno fatto una nuova formula rispetto ad anni fa. È più, è un filo reale, proprio si sente. Si sente. Senti qua. Si sentono proprio i fiori. È super floreale, fresco. Sì, 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 certo, certo. Certo. Questo, invece, abbiamo direttamente, questo è il nostro tester, ma la confezione è da 50 ml, viene 65 euro, viene di più, perché appunto è di oro. Sì, sì. Poi non so qual era proprio il tuo budget. Tu mi hai detto inizialmente di farti vedere quelli che venivano di meno. Comunque, anche questo è un signor profumo. Eh, sì, sì. Allora, l'ultimo profumo che vorrei farti sentire, che secondo me potrebbe lo stesso essere, fare a caso tu, scusami, è questo qui. Allora, questo qui è di Victor Rolf Flower Bomb. Guarda che carina la confezione. È carinissima, con questo fiorellino qua sulla destra. Troppo bellino. E questo, secondo me, è un profumo che si mette sempre. Cioè, per me è un profumo che può essere messo d'estate, d'inverno, di mattina, di sera, per le serate tranquille, o anche per galà. Però questo è un profumo veramente buono. Senti un po'. Bello, vero? Sì. Questo proprio lo senti che è un profumo bello, che poi si sente molto nell'aria. Sì. Allora, questo abbiamo la confezione, questa qui, che dovrebbe essere da 50 ml. E questo viene 65, è lo stesso. Sì, sto andando tantissimo piano, ho fatto anche altre varianti che arriveranno la settimana prossima da noi. Uno che sa proprio di più e più floreale rispetto a questo. Che secondo me può essere portato sempre, quindi è un mix. Sì. Ok, perfetto. Allora, dimmi un pochettino, se vuoi sentire altri tester, comunque li ho tutti qua. Ok. Sì. Perfetto. Allora, ti era piaciuto molto, che ti era piaciuto molto quello di Victoria's Secret, quindi questo va bene, quindi. Perfetto. Ok. Ok, allora questo lo vuoi per te. Perfetto, hai fatto bene, ma non ti fa un regalo anche tu. Sì. Ok. Ascolta, invece per la tua amica, che cosa hai deciso? Ah, ok. Perfetto, quindi un amante di Shakira. Perfetto. Allora, va bene anche questo, quindi. La confezione è una confezione particolare, quindi sicuramente le piacerà. Sì, come metto tu, è la confezione secondo me, è una delle confezioni più particolari comunque che abbiamo. Sicuramente vai anche a risparmiare. Certo, ti faccio il 30% di sconto su questo di Victoria's Secret per te. Ok. Praticamente per l'estate, per l'inverno, per le feste, è strabello perché ti faccio vedere. Praticamente tu spruzzi un po' e ti dà dei micro brillantini. Quindi questo è molto, sa un po' di borotalco ed è molto, molto naturale, nel senso che i brillantini sono super, super sottili. Sì. Sì, sì, sì. Ok. Ok. Perfetto. Ok. E invece abbiamo anche un altro, sempre, che è fatto così. Questo è più concentrato ed è sul dorato, quindi io lo consiglio prevalentemente per le feste oppure quando si ha la pelle super abbronzata. Te lo faccio vedere. Nell'altra parte, guarda. È decisamente più concentrato questo. Sì. Ok, perfetto. Perfetto. Allora. Ok. Va bene, allora te le prendi tutti e due. No, ma fai benissimo alla fine. Certo. Guarda, anche alla tua amica sicuramente piacerà. Poi se le piacciono comunque queste cose qua, tutte glitterose, brillantinate, sicuramente le piacerà anche questo. Certo. Va benissimo. Ok. Allora, io intanto ti faccio accomodare in casa e ti faccio dare anche un po' di campioncini. Allora, ti faccio dare il campioncino sicuramente di questo prodotto qua, che è di Diego Dalla Palma. Ed è veramente, veramente bello. È un cotornocchi. Ti faccio dare appunto questo campioncino qui, che è buonissimo, stra, stra, stra buono. E poi ti faccio dare il campioncino, è già pronto, che è del nuovo Misty Orchery, la nuova fragranza, sì, che a noi arriva, l'abbiamo terminato, arriva settimana prossima. Allora, comunque ti do il campioncino? Certo. Certo, va bene. Allora, torno subito. Torno subito con buste e tutto, ti accomodi in casa. Allora, ti ho portato altri campioncini, ho trovato questo Bulgari, che è un Ode Tualet, ed è questo della Guerlain, che è Ode Barman. Allora, ho trovato anche la bustina di Victoria Siegret. Così puoi tranquillamente uscire. Sì, sì, sì. Guarda, ti metto tutto qua dentro, nella bustina. Perfetto. Ah, ok, vuoi pagare in carta? Certo, non ti preoccupare. Grazie. Va col pin. Ok, mi serve anche un documento. Ok. Ok, perfetto. Ecco qua. Allora, spero tanto che regalo le piaccio. E ci vediamo alla prossima. Ciao.